carissimi amici bentornati ad una nuova puntata del catechismo tridentino detto anche romano indirizzato fondamentalmente ai parroci che fu il documento diciamo così il catechico dottrinale rilaborato a seguito del dello splendido concilio di trento come sappiamo segno anche un momento fondamentale di rinascita di risurrezione ferma della della chiesa cattolica dopo la grande dopo la grande crisi luteana la struttura del catechismo è analoga come abbiamo già visto in queste prime puntate a praticamente tutti i catechismi e fermo restando però c'è un taglio fortemente dottrinale ed elaborato quindi solo somiglia per certi aspetti avrete fatto caso come come impostazione al nuovo catechismo della chiesa cattolica piuttosto al catechismo di san pio decimo perché l'intuizione di san pio decimo appunto di fare un qualche cosa di di breve e di concentrato diciamo così nella nello schema domande risposte non c'era stato ancora allora intuizione mi avviso geniale quella di san pio decimo però abbiamo già avuto modo di gustarci le ricchezze di questo testo che con l'aiuto del signore continueremo ad approfondire a cominciare appunto da questa sera adesso dobbiamo riprendere il nostro itinerario a partire dal nome di gesù il posto per divino comando che è ben appropriato al redentore chiaramente siamo nell'articolo in gesù cristo suo unico figlio nostro signore e dopo aver visto appunto il redentore necessario a causa della caduta del peccato originale si entra nel merito dell'articolo in gesù cristo suo unico figlio nostro signore no quindi prima tratta del gesù di di gesù cristo quindi del santo nome di di gesù poi di gesù cristo resta sesso dote profeta poi di gesù cristo figlio di dio per generazione neffabile la doppia nascita di gesù umane divina umana poi il fatto che lui è un'unica persona con due natura quindi dogmi del concilio di calcedonia e quanto infine conclude la sezione affermando quanto il cristiano debba a gesù cristo già sugli articoli per non dilungarci troppo in 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 troppi discorsi numero 35 il nome di gesù cristo imposto per divino comando è ben appropriato al redentore in gesù cristo in in gesù cristo gesù significa che significa salvatore è il nome proprio di colui che è dio e uomo non gli fu imposto a caso o per volontà e decisione umana bensì per decisione e comando di dio infatti l'angelo annunciò la madre di lui ecco concipirai nel seno e partorirai un figlio a quale porrai nome gesù e più tardi non solo comandò a giuseppe sposo della vergine di chiamare il bambino con quel nome ma ne addusse anche la ragione dicendo giuseppe figlio di davide non esitare a prendere maria in tua consorte poiché quel che è nato in lei è da spirito santo partorirà un figlio occuperà il nome gesù e gli fa perché gli libererà il suo popolo dai suoi peccati molti personaggi veramente portano nella sagra scrittura questo nome per esempio il figlio di nave che successe a mosè e cosa questo negata introdusse nella terra promessa il popolo liberato da lui dall'egitto sta parlando di giosuè noi lo chiamiamo giosuè questo lo dissi anche l'anno scorso credo nel ciclo di catechesi dedicato all'antico testamento giosuè in ebraico si scrive esattamente così come si chiude gesù cioè yeshua il chiamarlo giosuè è un po' una convenzione per distinguerlo da da gesù e anche il figlio del sacerdote iosedec ma con quanta maggiore verità non troviamo noi che si convierà al nostro salvatore egli infatti conferito la luce la libertà la salvezza non a un popolo ma all'umanità di tutti i tempi umanità non già oppresso dalla fama dal dominio egiziano babilonese bensì sperduta nell'ombra della morte gemente nei durissimi ceppi del peccato e del diavolo guadagnò per lei il diritto ereditario al regno celeste la riconciliò con dio padre in quei personaggi dobbiamo scorgere l'affigurato cristo signore dal quale genere umano fu ricolmato dei doni mentovati tutti i nomi del resto che furono pre annunziati come riferiti alla disposizione divina al figlio di dio si riassumono in quest'unico nome di gesù poiché mentre essi esprimono ciascuno sotto un parziale punto di vista la salvezza che egli si doveva impartire questo abbraccia l'efficacia e la ragione dell'universale salvezza umana quindi una piccola piccola premessa sulle prefigurazioni tipologiche per quanto riguarda il nome di gesù il giosu è e un altro personaggio il figlio del grande sessodote jose dec episodio che riguarda la cattività di israele in babilonia come peraltro abbiamo ascoltato e la motivazione di questo nome che è completamente divina il nome di gesù è stato scelto da dio ed è stato spiegato da san giuseppe sempre dall'angelo nel suo significato più profondo e di salvere al suo popolo dai suoi peccati una salvezza quella di gesù non semplicemente come quella appunto messa in atto da gesù che condusse israele nella terra promessa quindi portando al compimento la liberazione dalla schiavitù dell'egitto compiutasi con l'esodo e portata avanti fino all'ingresso nella terra promessa da mosè ma una liberazione universale universale salvezza umana che è l'unico salvatore del uomo ora numero 36 gesù cristo re sacerdote profeta al nome di gesù è stato copiato quello di cristo cristo significa punto ed è titolo di onore e di ministero riservato però non a uno solo ma a diversi uffici perché gli antichi padri chiamavano cristi i sacerdoti e i re che dio aveva comandato di ungere in vista della dignità del loro ufficio in realtà i sacerdoti sono coloro che raccomandano a dio con l'assidua preghiera il popolo offrono a dio sacrifici implorano per la gente ai re poi affidato il governo dei popoli ad essi spetta soprattutto otterrare il prestigio delle leggi e la vita degli innocenti vendicare l'audacia dei perversi ora poiché tale funzioni sembrano rispecchiare sulla terra la maestà di dio era naturale che i candidati all'ufficio sacerdotale o regale fossero unti con un guento fu anche antico costitutine unge dei profeti interpreti di dio immortali di dio immortale scusate araldi fra gli uomini dei celesti segreti esortatori efficaci alla correzione dei costumi per mezzo di precetti e di previsione venendo al mondo il nostro salvatore gesù cristo assunse l'ufficio della triplice personalità di profeta i sacerdoti di re e per questo è stato chiamato cristo ed è stato unto allo scopo di assolvere il molteplice compito non per le mani di alcun mortale ma per virtù del padre celeste non con un guento terreno ma con olio spirituale nella sua santissima anima infatti fu versato una pienezza di doni dello spirito santo più ricca e generosa di quella che alcuna altra creatura posso ospitare lo aveva mirabilmente annunciato il signore scusate lo aveva mirabilmente annunciato il profeta rivolgendosi direttamente al redentore cristian salmo 44 tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità perciò il signore di tuo dio ti ha consacrato con olio di letizia sopra i tuoi compagni e anche più esplicitamente l'aveva mostrato isaia lo spirito del signore è sopra di me avendomi unto e mandato evangelizzare i mansueti quindi attenzione che cristo che significa appunto unto fa riferimento al triplice ministero terreno di gesù sacerdote re e profeta quindi colui che ha portato a noi in quanto profeta la parola di dio colui che ha realizzato non offrendo doni sacrifici esterni ma offrendo se stesso lui è sacerdote vittima e altare per la nostra salvezza e poi cristo è re perché lui spetta il governo un governo che lui offre come atto volontario da scegliere cioè noi dobbiamo sceglierlo per ora che cristo venga a regnare su di noi ricordiamo le parabole evangeliche no ma il regno di cristo volente o no lente ci sarà per forza quindi non tutti quindi cristo che poi tra l'altro è christos è la traduzione greca del dell'ebraico ma sarà messia però a riferimento diretto con il mistero appunto dell'unzione e attraverso questo mistero a questa triplice funzione perché nell'essere lunto il cristo diciamo che sussumeva e riassumeva in sé tutte le categorie di persone appunto che sacerdote e reprofere che venivano unte nell'antico testamento in vista di una missione divina da compiere e sono bellissime le citazioni del salmo 44 no mi è unto con olio di letizia preferenza dei teogali e isaia lo spirito del signore è sopra di me mi ha mi ha unto e mi ha mandato a evangelizzare i mansueti riprendo la lettura del testo Gesù Cristo fu dunque il profeta e il maestro per eccellenza poiché ci fece manifesta la volontà di Dio e dal suo insegnamento il mondo intero attinse la conoscenza del padre celeste tale qualifica gli conviene tanto più propriamente in quanto tutti coloro che meritarono il nome di profeti furono suoi discepoli inviati con il principio scopo di annunziare lui il profeta che sarebbe venuto per la salvezza di tutti parimenti Cristo fu sacerdote non di quell'ordine sacerdotale che appartengono nell'antica legge i sacerdoti della tribù di Levi ma di quello cantato da Davide con le parole tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec e anche noi sacerdoti della chiesa cattolica siamo sacerdoti in eterno secondo l'ordine di Melchisedec come l'autore del sacerdoccio della nuova alleanza che è il nostro signore Gesù Cristo concetto accuratamente spiegato dall'apostolo nella lettera agli ebrei infine in Cristo riconosciamo un re non solo in quanto Dio ma anche in quanto uomo partecipe della nostra natura avendo di lui dichiarato l'angelo regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe e il suo regno non conoscerà tramonto il regno di Cristo è perciò spirituale ed eterno iniziato sulla terra si corona in cielo egli esercita mirabilmente le prerogative regarie nella chiesa governandola proteggendola dall'impedo e dalle imboscate dei nemici imponendo le leggi e non solo elargendo le santità e giustizia ma dando le capacità e forza sufficiente per perseverare sebbene nei confini di tale regno siano promiscuamente compresi buoni e cattivi e quindi tutti gli uomini al rigore vi appartengono tuttavia coloro che uniformandosi i suoi precetti conducono vita integra e pura sperimentano sopra di ogni altro l'esimia bontà e beneficenza del nostro re tale regno non toccò a Gesù Cristo per essere rampollo di illustri sovrani in virtù di un diritto ereditario comunque umano egli fu re perché nella sua umanità Dio concentrò quanto la notura umana può possedere di potenza di grandezza e di dignità con ciò stesso Dio gli conferì il regno del mondo intero e tutto nel di del giudizio sarà pienamente e perfettamente sottoposto a lui come già del resto si comincia a vedere nella vita presente questo è un passaggio veramente spettacolare cioè a mio avviso questa spiegazione della regalità di Cristo è veramente spettacolare bellissima quindi si spiega che il regno di Cristo si esplica anzitutto in maniera piena ora sulla chiesa attenzione ed è un regno che riguarda lui in quanto uomo in quanto uomo cioè capite perché Gesù Cristo è il centro del punto di convergenza di tutto della storia ecco perché dobbiamo annunciarlo a tutti cioè il mistero nascosto da secoli dice San Paolo capite attenzione Cristo nella sua umanità perché in quanto Dio Dio regna già cioè Dio regna e nessuno può sfuggire al suo regno ma è volontà di Dio che Cristo regni il saluto che un tempo si faceva e speriamo che si riprendi un po' no Cristo regni da cui si rispondeva sempre non è Cristo in quanto Dio perché in quanto Dio la Santissima Trinità regna nei secoli dei secoli quindi non si discute ma in quanto uomo in quanto uomo ecco quindi è un regno spirituale ed eterno vi dico guardate quando Gesù diceva il mio regno non è di questo mondo non è un regno concepito sulla base dei poveri e piccoli piccini regni umani quindi è un regno divino spirituale è eterno perché inizia sulla terra e si coronerà in cielo si coronerà in cielo amici cari e in terra cosa succede? in terra succede che quelli che si uniformano ai suoi precetti conducono una vita integra e pura sperimentano più di ogni altro l'esimia bontà e beneficenza del nostro re amici se noi andiamo orizzontiamo la nostra vita verso orizzonti appunto di di grazia e di santità quelle bellissime parole del Salmo gustate e vedete quanto è buono il Signore e beato l'uomo che in lui si difugge e noi le vivremo non c'è niente di più bello non c'è niente di più suave non c'è niente di più dolce che vivere in unione in comunione con Gesù soggetti volontariamente e con tutta la gioia possibile alla sua sovranità si tratta semplicemente di uniformarsi ai suoi precetti ora è tanto difficile quindi il regno di Gesù Cristo non gli è toccato a lui quindi per essere successore di lustri sovrani d'accordo in virtù di un diritto reale o comunque umano no no bellissimo nella sua natura umana Dio ha concentrato quanto la natura umana può possedere di potenza grandezza e dignità non c'è niente con l'umanità santissima di Gesù e nel giorno del giudizio tutto sarà perfettamente pienamente sottomesso a lui sono le parole di San Paolo quando tutto gli sarà sottomesso quindi ringraziamo il Signore se siamo consapevoli dell'onore che abbiamo di appartenere alle milizie di Cristo già da adesso e nella misura in cui questo accade amici miei cari la vita sarà qualche cosa di bellissimo e di meraviglioso perché si sperimenterà le simi a bontà e beneficenza del nostro Re ora numero 37 come abbiamo visto Gesù Cristo e in Gesù Cristo suo unico Figlio è il nostro Signore esce dall'articolo del credo quindi lo step successivo è andare a vedere la filazione divina di nostro Signore Gesù Cristo suo unico Figlio queste parole propongono alla fede e alla meditazione dei cristiani misteri anche più alti intorno a Gesù è precisamente che egli è figlio di Dio e vero Dio uguale al Padre che lo generò fin dall'eternità inoltre riconosciamo così che egli è la seconda persona della Santissima Trinità del tutto uguale alle altre due non si può infatti immaginare qualcosa di vario e di dissimile nelle persone divine avendo tutte la stessa essenza volontà e potenza una è la volontà dei tre una è l'essenza dei tre una è la potenza dei tre quest'articolo di fede risulta da molti tratti biblici ma soprattutto dal celeberlimo testo di San Giovanni in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio chi conosce la messa cattolica tradizionale sa bene che questo Vangelo si leggeva sempre si legge si legge perché per chi celebra ancora ovviamente anche se adesso non è più una costituzione generalizzata al termine della messa quindi si è celebrato il santo sacrificio chi è che si è offerto in sacrificio? il figlio di Dio fatto uomo in principio era il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era Dio quindi sentendo che Gesù è figlio di Dio non dobbiamo ricorrere con il pensiero a una origine che implichi qualche elemento terreno mortale noi non possiamo cogliere con la ragione e compiutamente comprendere l'atto mediante il quale attenzione da tutta l'eternità il padre generò il figlio la Santissima Trinità è quanto di più trascendente il nostro pensiero che possa esistere quindi noi non possiamo comprendere l'atto mediante il quale ab eterno il padre genera il figlio però lo dobbiamo credere con fermezza e venerare con il più intimo secchio del cuore esclamando stupiti avanti al mirabile mistero come il profeta Esaia 53,8 chi spiegherà la sua generazione dobbiamo dunque ritenere che il figlio possiede la medesima natura potenza e sapienza del padre come confessiamo più apertamente nel simbolo onniceno che ho uscita vedete Gesù Cristo suo unico figlio nato dal padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non fatto consustanziale al padre per mezzo di lui tutto è stato fatto con lui non è fatto da nessuno quindi guardate che su questo punto ci giochiamo tutto tutto e dobbiamo sempre come in tutte quante le cose che riguardano la fede tornare su questo punto ma tu ci credi veramente che Gesù è Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero quindi pensiamo cosa cosa significa credere realmente questa cosa qui c'è una parola che dice Gesù nel Vangelo si dice questo è Vangelo esempi esempi perdonare sempre perdonare tutto e perdonare tutti e subito tra l'altro prontamente l'ha scritto nel Vangelo lo dice Gesù tante volte abbandonarsi alla divina provvidenza non avere paura del domani in relazione per esempio alle difficoltà economiche sta scritto nel Vangelo non datevi pensiero per la vostra vita di quello che mangerete di quello che berrete quindi dico no quando una persona comincia ad agitarsi per il futuro io faccio sempre questo esempio il problema della mancanza di figli non si fanno i figli perché non faccio accamparli tu non credi nel Vangelo figlio mio tu non credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio mi dispiace ma non ci credi perché il figlio di Dio non parla a bambera cioè quando noi diciamo quando negiamo il Vangelo lo ascoltiamo stando in piedi come segno appunto di rispetto massimo e di venerazione somma a quello che stiamo ascoltando fiducia nella provvidenza fino al martirio non temete coloro che uccidono il corpo e poi non hanno nessun potere sull'anima temete quello che può mandare nella genna il corpo e l'anima è stato per dire a qualcuno le beatitudini ci crediamo ma le beatitudini veramente il Vangelo è Vangelo se chi parla è il figlio di Dio chi ripudia la moglie ne sposa un'altra commette adulterio chi sposa una ripudiata commette adulterio chiuso la questione è chiusa l'eccellenza della virginità sul matrimonio non tutti possono capirlo ma solo quello che ha concesso alcuni nascono un ucchi dagli uomini altri alcuni nascono un ucchi in natura altri vengono fatti un ucchi dagli uomini altri si fanno un ucchi per il regno dei cieli chi può capire capisca cioè il Vangelo è Vangelo la parola di Gesù non si tocca e si accoglie proprio come con un spirito di adesione assoluta se no ma questa è una fatta troppo grossa questo non lo posso perdonare non lo devi perdonare perché Gesù te l'ha chiesto te l'ha detto di farlo nel Vangelo quindi questo è un punto fondamentalissimo Gesù Cristo unica persona e unico no la duplice natività è filiazione di Gesù Cristo il numero 38 tra le diverse similitudini presentate per adombrare la maniera e la natura della generazione eterna la più felice è quella ricavata dalla genesi del pensiero umano San Giovanni appunto chiama verbo il figlio di Dio questa è una analogia approfondita da San Tommaso da Quino infatti come la nostra mente intuendo in certo modo se stessa foggia un'immagine di sé che i teologi chiamano verbo così Dio per quanto è dato paragonare con le realtà umane e le divine comprendendo se genera il verbo eterno ma va meglio restarsi a quello a contemplare quel che la fede propone cioè credere e professare che Gesù Cristo è insieme vero Dio e vero uomo generato come Dio prima dell'alba dei secoli dal padre e come uomo nato nel tempo da Maria Vergine e Madre anche qui e qui si apre il capitolo della doppia generazione eterna e temporale del figlio di Dio anche questo mistero ineffabile sappiamo che c'è e com'è ab eterno dal padre nel tempo dalla Vergine Maria attenzione dopo questa doppia generazione umana e divina del verbo si comprende però come convergente nell'unione ipostatica con una sola persona Gesù ha due nature ma non è due persone fuse in una distinte no sono due nature distinte fusa nella stessa persona del verbo leggiamo il numero 39 pur riconoscendo la sua duplice generazione noi crediamo che unico il figlio perché è un'unica persona in cui convergono la natura divina e l'umana sotto l'aspetto della generazione divina non ha fratelli o coeredi perché figlio unico del padre mentre noi uomini siamo opera e formazione delle sue mani sotto l'aspetto invece dell'origine umana egli non solo chiama molti con il nome di fratelli ma anche li tratta come tali affinché con lui raggiungano la gloria dell'eredità paterna sono coloro che ricevettero con fede Gesù Cristo Signore e manifestano in pratica con le opere di carità la fede oralmente professata in questo senso egli fu chiamato dall'apostolo primo genito fra una moltitudine di fratelli cioè dobbiamo anche pensare figlioli miei cari all'onore proprio sconfinato che il verbo ha dato a noi membri della razza umana diventando carne che come sappiamo io l'ho detto infinite volte questa è la quasi certa quasi certa non voglio dire certa perché non c'è stato un pronunciamento ufficiale della chiesa ma è stata ovviamente tenuta da tantissimi santi teologi e santi scrittori ecclesiastici la caduta degli angeli è dipesa dall'incarnazione del verbo cioè l'invidia che i demoni hanno nei nostri confronti deriva da questo che il verbo si è fatto carne non si è fatto angelo è una cosa che ci dovrebbe fare letteralmente impazzire di gioia se uno crede che veramente Gesù Cristo è Dio che rapporto sarà con la messa che rapporto sarà con la comunione sacramentale ma come farà la comunione sacramentale guardate che diamoci uno sguardo un attimo in giro ma se Gesù Cristo è Dio Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero ma che lo prendi in mano come una mentina come una caramella e te lo porti a spasso capite no? la grande crisi di oggi che è qualcosa di simile a quello che è successo sapete che la prima grande grossa crisi generalizzata nella chiesa a livello teologico fu l'arianesimo ma sapete cosa dice Ario che il verbo non è Dio da Dio luce da luce da Dio vero e il concilio di Nicea con quelle formulazioni quelle formulazioni sono proprio la contraddizione la confutazione diretta di quello che diceva Ario se Gesù Cristo non è il figlio di Dio è la fine figlioli miei cari cioè finisce tutto il cristianesimo finisce tutto tutto quanto saltano tutti quanti saltano tutti quanti transistor tutti 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 capite anche l'ansia e l'urgenza dell'evangelizzazione no evangelizzazione che non è dialogo cioè non è nemmeno imposizione o come dire violenza per farti credere no ma ogni uomo c'è il diritto di sapere che Dio si è fatto come lui ed è sceso sulla terra per salvarlo l'informazione deve essere portata a tutti e bisogna trattare questa cosa qui come ha fatto Santa Bernadette no il mio compito a me mi stanno detto di dirvelo non di farvelo credere poi la fede dinanzi alla predicazione c'è la fede e c'è il rifiuto ma la predicazione noi dobbiamo farla a tutti ma no ma che lascia di perdere quelli che hanno la loro religione ma va bene lo stesso basta che uno serve il Signore te lo serve lo serve e tanto comunque sia va bene lo stesso no noi non possiamo non siamo autorizzati a pensare questo cioè oggi c'è questa moda diffusa anche ahimè in qualche ambiente ecclesiale ahimè che se si pensano di poter come dire contraddire o bypassare quello che ha detto il nostro Signore non lo possiamo fare questo qui andate annunciate il Vangelo ad ogni creatura battezzandoli nel nome del Padre e del Filo e dello Spirito Santo insegnando tutto ciò che io vi ho ordinato io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo chi parla è Dio non è che ha detto se ci avete voglia andate però non è urgente cioè se ci andate ci andate se non fa niente perché tanto qualche credenza in giro ci sta va bene lo stesso poi me la vedo io non ha detto così non ha detto questo non ha detto questo eh sì eh sì però se una famiglia si sfascia se la situazione se salta il matrimonio e che facciamo mi devo rifare una vita ma Gesù non ha detto questo non ha detto questo ha detto il contrario e noi non possiamo fare operazioni come dire di manipolazione nei confronti di nostro Signore oppure di piegare il Vangelo secondo i nostri canoni oppure di abbassarlo come si chiama il Vangelo è troppo esigente abbassiamolo un pochino in modo tale che diventa un pochino più come dire consono compatibile con la nostra povera natura umana non si possono fare queste operazioni ora pur riconoscendo rilego la lettura la sua duplice generazione crediamo unico al figlio perché è un'unica persona in cui convergono la natura umana e la natura divina primo genito fra una moltitudine di fratelli ora Gesù Cristo è nostro Signore Gesù Cristo è nostro Signore secondo le due nature tutte e due allora le Sacre Scritture attribuiscono al Salvatore moltiplici qualità questo è il numero 40 di cui alcune chiaramente gli spettano come Dio altre come uomo avendo egli in sé con la duplice natura le proprietà rispettive rettamente dunque dicevamo che Gesù Cristo per la sua natura divina è onnipotente eterno e immenso tre dei quattro attributi fondamentali della divinità il quarto faccio una pausa di due secondi vediamo tra gli ascoltatori chi lo sa onnipotente eterno e immenso ce ne manca uno onnisciente mentre per la sua natura umana diciamo che ha patito è morto ed è risorto ma oltre questi altri attributi convengono entrambe le nature come quando in questo articolo lo diciamo nostro signore buon diritto del resto potendosi riferire tale qualifica all'una e all'altra natura e qui adesso non so se se ne parla più avanti il cosiddetto interscambio di idiomati per questa sua caratteristica unica non esiste non esiste nessun altro che che possa dirsi uomo e dio ecco per esempio una grande differenza che c'è tra Gesù e la Madonna cosa che deve essere affermata con verità ma che non comporta alcuna diminuzione del ruolo della della Madonna all'interno della fede e della rivelazione la Madonna non è umano divina la Madonna è divina è divina però perché è divinizzata dall'azione della della grazia ma la Madonna è una persona ed una creatura totalmente umana semplicemente ha accolto lo Spirito Santo semplicemente insomma come di più a pura creatura umana non è possibile farlo superiore alla Madonna c'è soltanto Gesù Cristo ora però si dice per esempio possiamo dire parlando di Gesù Dio mangia? sì possiamo dire di Gesù Gesù è onnipotente quindi chiamando Gesù con il suo nome umano sì possiamo dire questo lo faceva anche Gesù no? possiamo dire il figlio dell'uomo lo vedrete salire con potenza e venire con potenza e sedere alla destra della maestà di Dio sì perché essendo una sola persona ciò che viene attribuito ad una della natura perché ci sono delle operazioni proprie della natura Gesù Cristo mangia in quanto Dio in quanto uomo quando c'è un predicato su Gesù Cristo abbiamo subito chiederci un'operazione che fa in quanto Dio in quanto uomo mangia in quanto uomo dorme in quanto uomo cammina in quanto uomo fai miracoli in quanto Dio legge i cuori in quanto Dio ma è sempre uno questo è il cosiddetto interscambio degli idiomati che è una cosa che può avvenire soltanto in un soggetto come era nostro Signore cioè che quello che è divino appartiene all'umano e quello che è umano appartiene al divino ora infatti ripetendo la lettura Egli è Dio eterno come il Padre e così pure è il Signore di tutte le cose quanto il Padre e come Egli e il Padre non sono due distinti dei ma assolutamente lo stesso Dio così non sono due Signori distinti ma anche come uomo per molte ragioni è chiamato Signore nostro anzitutto perché fu un nostro Redentore e ci liberò dai nostri peccati e quindi giustamente ricevette la potestà di essere vero nostro Signore e meritarne il nome l'apostolo non la lettera ai filippesi si umiliò fatto si obbediente fino alla morte di croce perciò Dio l'ha esaltato conferendogli un nome che è sopra ogni altro nome onde al nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo in terra nell'inferno ogni lingua proclami che il Signore Gesù Cristo è nella crore di Dio Padre ogni ginocchio si pieghi dobbiamo parlare anche di questo in chiesa oggi si ginocchia più nessuno c'è la crisi dell'inginocchiarsi un gesto che è disprezzato da una montagna di gente ci sono chiese adesso in cui gli inginocchiatori non ci stanno proprio più ci mettono le sedie o delle panche ma rigorosamente senza inginocchiatori ma anche qui c'è scritto nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo sulla terra e sotto terra io ho detto altre volte che i diavoli ci sbeffeggiano a noi mortali perché loro dicono quando il vostro Dio si affaccia all'inferno noi stiamo tutti in ginocchio perché non possono resistere alla sua amistadivina e sono obbligati a riconoscergli anche se non accettano la manifesta superiorità di nostro Signore rispetto a loro Dio è il numero uno questa attestazione dell'essere è il numero uno noi dobbiamo dargliela dobbiamo mirarci davanti a lui in ginocchio io ho detto ripetuto e ribadisco chi non si inginocchia per esempio durante la consagrazione a meno che non ci abbia un motivo grave ma grave significa che che ne so c'ha il menisco appena operato c'ha la gondropatia acuta o cose del genere e se no senti due minuti che non ci durano purtroppo generalmente le consagrazione non ci durano non ci arrivano da due minuti ordinariamente ahimè tu lì ti devi stare in ginocchio e ti devi stare in ginocchio noi dobbiamo gareggiare su questo qui su questo si può gareggiare in senso buono egli stesso disse di sé dopo la risurrezione mi è stato conferito ogni potere in cielo e sulla terra in quanto uomo sta dicendo qui perché quanto Dio non gli deve essere conferito niente perché ce l'ha già il potere inoltre ha chiamato Signore per aver riunito in una sola persona due nature la Divina e l'Umana per questa mirabile unione meritò anche senza morire per noi di essere costituito quale Signore sovrano di tutte le creature in genere specialmente dei fedeli che li obbediscono e lo servono con intimo affetto vedete che è la seconda volta che riguarda un intimo affetto intimo affetto bellissime bellissime queste considerazioni no? ora chiudiamo l'articolo su Gesù Cristo e così chiudiamo anche questa puntata con l'ultimo paragrafo quanto il cristiano debba Gesù Cristo infine il parroco esorterà il popolo fedele a riconoscere quanto sia giusto che noi sopra tutti gli uomini avendo tratto da lui il nome di cristiani e non potendo ignorare gli immensi benefici di cui ci ha ricolmato anche perché la sua bontà ci rifece conoscere per fede ci consacriamo per sempre come servi docidi al Redentore Signore nostro promettemmo di farlo quando l'iniziazione battesimale ci schiuse le porte della Chiesa dichiarammo allora di rinunciare a Satana nel mondo e di rinunciarsi tutti a Gesù Cristo e lo abbiamo dichiarato non ha fatto il padrino o la madrina o insieme ma l'abbiamo dichiarato se dunque per essere introdotti nella milizia cristiana ci consacrammo al nostro Signore con sissante e solenne promessa di quale supplizio non saremmo meritevoli se dopo aver passato alla salute della Chiesa dopo aver conosciuto la volontà alla legge di Dio e aver usufruito della grazia dei sacramenti vivessimo secondo le prescrizioni le massime del mondo e del diavolo quasi che nell'atto del battesimo non a Cristo Signore l'Eventore avessi comodato il nostro nome ma al mondo è Satana guardate che è bello bello severo bello impegnativo ma ti pare che tu che nel battesimo sei stato introdotto nella milizia cristiana non c'era non c'era paura un tempo di usare questo vocabolario militare milizio viene da milite no? noi siamo il combattimento contro gli spiriti del male in perpetuo non è una cosa che dice ma io sono un povero laico non sono un amico un plato esorcista e che gente è un plato esorcista il combattimento contro il diavolo devono farlo tutti tutti quanti ma in quale anima non accenderà fuochi di amore la volontà di così grande signore tanto benigni e provvizi verso di noi che pur avendoci in suo completo potere quali servi riscattati con il suo sangue ci circonda di così profondo amore che non ci chiama servi ma amici e fratelli queste sono tante cose scorce tanti questa è senza dubbio la causa più giusta e forse la maggiore per riconoscerlo venerarlo servirlo sempre come signore che bello che è anche qui allora noi siamo tutti quanti soggetti al potere di Cristo anche come uomini cioè anche in questa vita anche se non credenti ma nei confronti dei suoi amici fedeli Gesù si manifesta appunto come amico e come fratello non tanto come signore come dire ci chiama ad uscire dalla logica del servo per entrare nella logica del figlio dell'amico del fratello possiamo dire che Gesù è il nostro miglior amico dovrebbe esserlo anzi dovrebbe essere l'amico per antonomasia con la maiuscola con Gesù si parla di tutto di tutto se è un amico cioè tra amici si sta insieme no ci si frequenta si ama la compagnia i fratelli convivono sotto la stessa casa quindi Gesù vuole che si abbia questo rapporto intimo e profondo con lui che non deve essere mai ovviamente non deve mai scadere nella nella confidenza che è la madre della mala creanza no quindi perché a questo intimo e fraterno e amichevole filiale rapporto con lui non deve essere mai disgiunta la percezione che io sto trattando con domine Dio sto trattando con domine Dio e lui non ci dà le dispense dal trattarlo come domine Dio anzi ce lo chiede per il nostro bene ecco quindi penso che per oggi possiamo davvero mettere punto non senza aver ribadito qui c'è una verità che avrebbe propondito San Luigi Marelli di Gnona Moffort e questo che chiaramente qui nel carichismo ancora non c'era come strumento formidabile di santificazione no cioè qui dice Gesù è nato dalla Vergine Maria è nato e le promesse battesimali che abbiamo fatto durante il nostro battesimo attraverso la sostituzione vicaria si chiama così tecnicamente che i padrini esercitano il nostro nome e il nostro conto al momento del battesimo lì ci siamo consacrati al nostro Signore come promettendo di osservare le promesse battesimali no rinuncia a Satana tutte le sue opere tutte le sue seduzioni credi in Dio Padre Onnipotente credore del Cielo della Terra eccetera eccetera queste cose non bisogna ripeterle a pappagallo quindi bisogna interiorizzarle e qual è il modo per vivere perfettamente la devozione cioè la devozione l'impegno dell'osservanza dei promessi battesimali salvo Deonfort qualche tempo dopo la pubblicazione di questo catechismo non tantissimo per la verità è la Madonna perché nessuno come lei l'ha fatto e quindi nessuno come lei è capace a insegnare ad ogni persona ad ogni creatura specialmente battezzati che hanno tutti quanti le carte in regola per fare questo appunto perché questo hanno promesso il giorno del battesimo come si fa a vivere questa intimazione con Dio e questa tensione verso la santità perfetta bene non mi fermerei qui amici ci vediamo la prossima puntata e che intanto Dio e benedica la tua religione sempre vivo